Ciao a tutti ragazzi, un saluto da vostro Razor. Oggi siamo con Werther e Sammy, un nuovo ospite. Ciao a tutti. L'abbiamo fatto entrare in modo clandestino in casa. Ce lo siamo ritrovati di forza. E adesso quindi non sappiamo di preciso cosa fare, però probabilmente andremo a rompere i coglioni a qualcuno in giro. Tanto vi faccio vedere un attimo la casa come impostata. Quattro fornaci qua, così chi vorrà raidare sa già dove sfondare. Bauli varie, abbiamo un po' di roba, abbiamo sistemato un bel po' il tutto. Doppia porta d'ingresso. L'orsacchiotto qua all'entrata. Qua invece c'è la stanza con la serra. Qua possiamo piantare un po' di roba. Qua invece c'è la torretta di vedetta. Vedete qua abbiamo fatto una scala che scende e le varie finestre per poi avere una buona visuale per difenderci. Che palle, porca. Esatto. Ci ho rimesso dentro la carne. Eh, anch'io ce ne ho messo dentro tipo tre o quattro. E mi hai fottuto veramente subitissimo. Ma perché? che è? No. La mia arma. No. Dov'è il mio fucile? Non l'ho preso io. Bruciato. No. Eh, se mi hai da mangiare un pezzo di carne. Grazie. Mancava. Proprio merda, mangia. Partiamo, dai. Stiamo tornando, merda. Un attimo solo. Martin Garrix. Animus. 130. Il fucile d'assalto lo lasciamo qua. Lo lasciamo qua, il fucile d'assalto. Si vola. Andi. Basta. Dimmi per te. Porco. Esatto. Dimmi per te. Po, 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 po. Lo lasciamo qua, il AK-47. Sì, sì. Andiamo a giro da povere, dai. Dai, andiamo. E' un po' inutile. Definiamo le regole d'ingaggio. Appena vediamo uno. Si spara. Si spara. Dobbiamo andare vicino. No, magari, ecco, se possiamo, se è troppo lontano, io direi di avvicinarci in modo da averlo a tiro. Se lui non ci ha visto. No, dai. Sincronizziamo i colpi. Ovviamente. Sì, esatto. Ah, non ho mica preso la balestra. Ai 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 ai, Werther. Eh, ho solo il fucile e il revolver. Mi stai diludendo. Che delusione, Werther. Ah, io sto girando con fucile, balestra e pistola addirittura. Aspetta, ma me l'hai fregata te, spemmi, oppure te la sei fatta? Ma sono costruita. Ah. Wow, che bella sta balestra. Mi piace la sua balestra. In realtà è andata esattamente così. Eh, lo so. Allora, stiamo andando molto a cazzo di cane. Oh, c'è un tipo, c'è un tipo. Dove, 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 dove? Dove? Semmi, dove sei? Dove sei, Semmi? Guarda... Allora, Semmi, io vedo te, ma non vedo i tipi. Alla tua sinistra. Ok, l'ho visto, nudo, l'ho visto, nudo. Io sono qua. Sta correndo, di eh? Dove? Eccolo lì. Ah, sì, l'ho visto, l'ho visto. Andiamo a prendere? Eh, aspetta, guardiamolo, dai, andiamo, andiamo. Ascolta, guardiamo dove va, piuttosto, un attimo. Perché se andiamo addosso così... Eh, vado a quella casa là, perché occhio, eh, perché... Occhio alla casa a fianco, Werther. Controlliamo cosa c'è dentro? Sì. Va bene, va bene. Vabbè, dai, lasciamola andare quello là che... Qua ci sono due letti. Lo prendo, va bene. Porca troia, Semmi. Tana maiala. Sto prendendo i barili qua fuori, io. C'è un binocolo, l'ho trovato. Giuro. Davvero? E là, fanculo. Ma l'avevi trovato tu, Semmi? Ma dove siete andati? Non c'era il binocolo. Sì, nel... Dove siete andati nella grotta? Sì, sì, dentro. Ok. Fuori qua fuori, Semmi, c'era... Quella specie di carrello... Da miniera rovesciato. Lì c'era un binocolo. Io ho trovato solo del metallo. Molto male. Giuro che ti c'era il binocolo. Giuro, giuro, c'è il binocolo. Lo voglio, sono malissimo. Fatto che te lo droppo. Lo droppo, to. Hai mangiato, vero, Pablo? Io non ho mangiato. Sì, sì, ho già mangiato. Wow, ha messo il zoom. Beh, è la sua funzione, quindi... Insomma, tanto. Ma... Ma tipo un per quattro violente. Fa... Fa provare, te lo ridò dopo. Sì, sì, ti piacerebbe. Avviciniamoci... No, no, giuro, te lo... Te lo ridò, giuro. Avviciniamoci... Fanno provarti, non lo ridò. Questa casa lì, raga? Ah, binocolarsi. Ha questa casa che c'è qua. Ah, figo. Boh, io... Zoom tantissimo. Vediamo cosa c'è qua. Zoom un shock. Tu vertersi dietro? Sì, sì. Qua bisogna stare un po'... Intenti. Allo. Io vado su un attimo, così vedo un po' dall'alto cos'è. Sammy? Sì? Chi è buttato giù? Oh, che cazzo? What? È venuto giù da solo? Aspetta. Ah, perché sono... 2 su 500. Stanno... Crollando a pezzo. Eh, vuol dire che è abbandonata, allora, molto probabilmente. Potremmo trovare una casetta da... Da... Spendere un C4. Sì. Però, vabbè, sì, deve essere qualcosa per cui... C'è un drop, eh? C'è un aerodropper, raga. Bisogna dire dove cazzo è l'aereo, perché non lo vedo. Però lo sento. Eh, non lo vedo neanche io. Eccolo qua. Ah, è lì, è lì, sì. Vediamo dove droppa. Non l'ha lanciato ancora. Eccolo lì. Droppato, raga. Si può fare? Dove siete voi? Sono dalla casa raidata di prima. Andiamo, andiamo, dai, dai. Mi hai visto, Werther? Sì, sì, t'ho visto, t'ho visto. Allora, vai, seguite. Secondo me l'ha droppata una casa, comunque. Niente di più facile. Hai visto dove ha droppato, vero? Sì, sì, io vedo il paracaduto. Ah, ok, l'ho visto anch'io, perfetto. Eh, io ero intento solo a seguire a Eter. Ok, Werther, mi vedi? Sì, sì. Semi, occhio che... Ci proviamo. Non sa mai. Eh, poi a quest'ora ci sono... Ecco, sono di fianco a voi. C'è anche un lupo. Ah, sì, ti ho visto. Lamiere. È abbastanza... Sembra vicino, ma non è... Non tantissimo, eh. Potremmo quasi girare dritto qua. Non è vicinissimo a noi. Oddio, ma mica tanto lontano, neanche. Stiamo attenti perché... Teniamo d'occhio il drop. Sì, sì. Sì, perché dopo se lo perdiamo... Poi in masa sti alberi qua non è facile. Radiazioni. Ok, è liscio. No, cazzo. No, cazzo. Io c'ho tutta la vita. Potrei farmi un salto dentro, se volete. Eh, occhio, però. Radiazioni? Ah, dove sei te? Sì. Radiazioni. Sì, radiazioni. Tana, maiala. No, no, via, 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 Werther. Eh? Vier, via, via. Sì. Facciamo il giro largo. Dobbiamo trovare di nuovo l'aereo che non lo vedo più. Dove andiamo? No, io vado, mi seguo Werther. Sono vicino al drop. Mi vedi? Sì, sì, ti vedo. Vai, vai, veloce, veloce. Sto arrivando. Veloce perché è rischioso qua. Beh, abbiamo anche gli alberi un po' che ci danno la mano a coprirci. Ok. Ah, ci sta cadendo in testa praticamente. Dici? Dovremmo... Sì, 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 guarda. Ok, ok, aspetta. Io mi metto dentro un cespuglio. Ah, Ellie, lo vedi? L'hai visto? Ma sei sicuro che non è di quella casa lì che c'è davanti con la torre? No, secondo me no. Comunque io sono dentro un cespuglio, quindi tu non dovresti neanche vedermi teoricamente qua. Non stiamo però nello stesso cespuglio, Werther, che secondo me rischiamo... Se ci vede qualcuno ci sparano entrambi. Sta arrivando della gente. Sta arrivando un tipo. Davvero? Sì, sì, sta arrivando un tipo, Werther. E c'ha dei cartelli. Sta andando a dire... Sì, è solo lui. Sta andando... Sto tornando indietro. Werther, dobbiamo ingaggiarlo fra un po', eh. Si sta nascondendo dentro il cespuglio. Ah, sì. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Lo vedi? Si sta cercando di nascondere... L'ho visto. Aspettiamo che si avvicina. L'ho visto. Aspettiamo che si avvicini. Sì, 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 aspettiamo. Non voglio essere io, eh. Non ti muoverò. Ti stai muovendo? No, no, no. Ok, allora è lui. Sono in due, Werther, sono in due. No, fermo, sono in due, Werther. Sono in due. Sono in due. Ma dove siete? Proviamo? Non lo so, eh... Sono in tre, sono in tre, Werther, via, Werther. Ci stanno sparando, via, 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 via. Sammy, torna indietro, ci stanno sparando. Sto sanguinando. Zigzag, Werther, zigzag. Sto sanguinando. Non muoverti fisso perché se no ti prendono. Puttana troia. Sto sanguinando. Devo mangiare. Stai dietro, stai dietro della roba. Ma uno di voi due c'è la maglia rossa? Eh, no. Scappa. Occhio, Sammy, eh. No, io sono una storia. Porca troia. Via, via, via. Di quella puttana. Ti ha preso, te? No, non mi ha colpito, però... Ho visto te molto male. A me mi ha colpito. Ci hanno visto attraverso... Ah, hanno visto te, sai, mi sa. Sì, sì. Dove c'è qua in grotta? Mm-hmm. Una becca, mi sa. C'è una luce. No, è finita la luce. Occhio, occhio a non cadere. Ok, qua c'è un qualcosa. Ok, i buchi. Potrebbero esserci dei buchi in giro. Lutto e cappello, ma niente di che. Qua c'è un buco, eh. Attento. E c'è qualcosa, Proli. Eh, però... Non si torna mai più su. È stato bello. Ho trovato delle pillole antiradiazione. Ma che c***o, lo feciai. Ma cosa dove scena? Sì. Potremmo andare verso la spiaggia. Perché dici? Lì di solito c'è della gente. I nudini ci sono. È un pelo da strozzi, ma... Un bel po'. Oh, le torce non si fa mica la sole? Beh. Verbo. Ci mancano torce. Io ho sette di sete. Avete qualcosa? Eh, no. Io ho dell'acqua. Vuoi dell'acqua? Sì, grazie. Mi piacerebbe. Eh, io sto perdendo vita... Ho dei semi. Se hai del cibo, semi daglielo pure che gli dà lo stesso bollino. Ho della carne da cuocere. Cazzo. Oppure dei semi. Eh, anch'io dei semi. Mi puoi mancare i semi. No? No, no. Solo quelli di zucca, mi sembra. Eh, io ho 15 di vita, mi sa che... Anche quelli di zucca. Hai 15 di vita totale? Sì. Porca troia. Oh, fai un fuoco, fai un fuoco di tipo veloce. Sì, dai, adesso lo costruisco io. Lo fai te? Sì, sto facendo io. Lo faccio io? Sto facendo io, sto facendo io. Che carne hai, semi? È il porco. Ok, allora va bene, perché se era umano dava ancora più sete. Vai, mettete dentro. Ok, c'è della roba, comincio a mangiare. È solo che non mi... No, la sete rimane, cazzo. Rimane sempre 6 di sete. Sì, non mi... Vabbè, nel dubbio tu mangia che ti dà un po' di energia, poi... Ascolta... Ma che ti dà della vita, anche. Sì, un po' di vita, ma la data... No, continua a scendere, sono 11. Sono andato tipo a 14, poi adesso 13, 12, 11. E ho sempre 6 di sete. Il porco non dà... 10. Porco, bastardo. Vaccatroia. Aspettate, dovremmo andare dal lago, però è un po' lontano. È decisamente lontano. Dai, forse se corriamo ce la facciamo. Ecco, l'ha detto. No, non c'è 10. Stanno sparando. Veloce, Werther. È dietro di noi. È dietro di noi. Ho un piccolo problema. Cosa? Mi hanno ucciso malissimo. No. No. Dove, 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 dove? Eh, cazzo, merda. Un corso di fianco a una casa grossa. Mi ha laggata una certa. Sono ricomparso e che mi sparavano. Eh, come facciamo adesso? Io ho 8, io ho 8 di vita. Tu vai, Werther, ascolta. Mi sa che una roba di semi l'abbiamo persa. Dammi da mangiare. Eh. Eh, il problema è che... No, radiazioni, radiazioni 50. Sono morto, sono morto, sono morto. No. Perché mi hanno sfronzato con un tom. No, Werther, no. Cazzo. Puttana, maiala. Eh, io sono morto. Puttana, maiala. Si riesce a tirar sulla roba? Riesce a tirar sulla roba? Eh, porco 2. Pavlo, sei riuscito a prendere la mia roba? Si, sto tirando su. Cazzo. Però mi sento tanto esposto, eh. Ok, ha trovato una barretta. E anche una scatola di tonno. Voilà. Ottimo. Culato. Strano. Quindi come vi organizzate? Ho preso... Ah, Sammy è ancora nudo in casa. Ho preso... Ho dovuto prendere la SMG. Comunque sto attento. Mi raccomando. Io vedo la K, arrivo. No, Sammy... Occhio. Cioè, alla fin fine vanno poi usate, però... Io regalo una K al nudino. Vediamo se mi uccide. Allora, ci troviamo... Io sono proprio a nord del satellite. Se passi da sopra mi vedi. Tu sei a nord del satellite. Ok, sto arrivando anch'io adesso. Sono anch'io praticamente a nord. Dietro delle rocce gigante. Eccoti qua, sei tu? Sì, sì, eccoti, eccoti. Sì, sì, sono io, sono io. Bella. Ma c'è un aereo, c'è un aereo sopra... Mi vedi qua? Guarda giù. Dove? Ah, ok, bella. Ok, lì c'è un aereo che sta passando sopra la satellite, sopra la parabola. E dove sei te, Pablo? Non ti vedo più. Ero dove eri prima tu con il camioncino. Che sono lì praticamente. Ah, ok, allora sono andato avanti io. Ah, comunque ho trovato delle pillole io. Ottimo, ce l'ho anch'io. Guardiamo dove droppa, magari. Sì. Sai, mi, tu ce l'hai sopra? Sì, sono sui sassi. Sì. E sopra l'età c'è l'aereo, vediamo dove droppa. Speriamo che droppa da te, magari. Eh, no, ma droppa in là, guarda. Guarda, guarda. No, non è droppa di me. Eccolo lì, ha droppato lì. Oh, c'è un tipo. Eh, no, 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 no. Dove, dove, dove? Ah, sei, ah, cazzo, sei tu, sei tu, è Sammy. Borchia, troia, che infarto. Sammy, ma diccelo, cazzo. No, io lo sapevo. E' un po' di fianco a Pablo. Dio Cristo, merda. Ti ho fatto male. Ma hai beccato due volte. Dio Cristo, eh, vuoi delle bende? Vuoi delle bende? No, no. Non ho smesso. Per qualche strana ragione ho smesso. Se stiamo dal drop in tre, è fattibile qualcosina, eh. A meno che non arrivano altri tre, quattro. Però, se siamo in due, è già un po' un rischio. Beh, ci possiamo provare. Stiamo però attenti. Vi a stare uniti. Sammy, sei tu quello lì? Salta. No, non sei tu, è Werther, è Werther da for fuori quel tipo lì, eh. Lo spariamo? Siete pronti? Eh, ma sei tu, Sammy, non sei tu quello che sta saltando adesso? Io sono questo. No. No, no, non è Sammy. Sammy è qua a sinistra. Ok, ok. Allora lo vedete, lo vedete? Sì, lo vedo. Pronti? Pronti? Vai. Guarda. Andiamo, andiamo addosso, andiamo addosso. Andiamo gli... Andiamo, andiamo. Ogni tanto guardatevi dietro però, raga. Sì. Che anche cattivo... Occhio che anche lui potrebbe rispondere. C'è una mitragliatrice. Eh, non lo vedo più. Non so com'è anche la mitraglietta. Eh, ma era andato sulla destra, eh. Potrebbe essere andato in su qua. Eh, andiamo verso il drop? Eh, attenzione perché se c'è quel tipo lì in giro... No, dobbiamo prenderlo, eh. Eh, il drop? Se tu Sammy quello lì... Lo sento, lo sento. No, però sento qualcuno qui lì. È in casa allora. È entrato in casa allora, secondo me. Occhio. Densio. Verte, tieni d'occhio il drop. Eh, il drop è sceso. È là dietro, dietro i sassi. Porca troia. Guarda che ascolto i passi, eh, rega. Anch'io sono... Io sono... Ma lui... Lui si è andato... Si è andato a nascondere lui. Potremmo... Potremmo andare verso il drop. Sam, io sono in ginocchio, vicino alla casa dove sei tu. Quindi si vede qualcuno in ginocchio. Io... Io sto girando la casa a piedi. Anch'io. C'è nessuno? Vera. Vera. Ascolta... Torniamo indietro per... Metter giù la roba. Sì, dai. Sì, va bene. Beh, poi possiamo mettere giù tutta la roba che abbiamo trovato, che comunque ne abbiamo un bel po' e... Sì. E organizzare poi di ritornare in giro, perché... Sì, sì. Dobbiamo ancora trovare della gente da accoppare. Non vedo l'ora di uccidere anche un nudino, per me sarebbe tanto. Un nudino? Eh, io farei... Io per cominciare, so che sono stronze cattivo, ma farei un giro in spiagge. A cazza di nudini. La ronda facciamo. C'è il coprifuoco a un certo orario. Li inseguiamo poi in voice chat e gli diciamo... Ci servono delle torce. Dateci le vostre torce o morirete. Una cazzola, io vado a prepararmi. Va bene. Va bene, io ormai... Io ormai tiro via qua, perché ho già cucinato un sacco. Va bene, allora ci saluta, Sammy. Buonanotte. Buonanotte, Sammy. Ciao, ragazzuoli. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Comunque, ridendo e scherzando, noi non abbiamo torce davvero. Io, cioè, opterei veramente in modo severo ma onesto andare a cercare i nudini per la spiaggia. Facciamo così. Andiamo, andiamo. Ragazzi, adesso gli averter armati, finalmente armati. Andiamo a far fuori qualcuno, se lo troviamo. Magari, da predatori, potremmo diventare prede, ma si spera che non sarà così. Andiamo. Allora.